È una scelta che può far discutere, ne sono consapevoli, ne eravamo consapevoli, ma abbiamo voluto dare questo segnale forte, anche perché quando piangiamo per qualche persona che è vittima di incidenti stradali è già troppo tardi. È con la decisione forte di esporre un'auto incidentata che inizia una campagna sulla sicurezza stradale a Castiglion-Fiorentino. Meglio perdere un secondo per la vita che la vita in un secondo è uno slogan, ma questo di qua è l'effetto di una guida sbagliata, di una velocità non adeguata, di una serie di errori che può portare a questo. Troppe morti sulle strade, troppe vite spezzate, come quella di Federica Canneti, la giovane castiglionese morta a soli 22 anni lungo la regionale 71 pochi mesi fa. I genitori di Federica hanno apprezzato la campagna di sensibilizzazione. Penso che per loro il dolore sia incolmabile, tuttavia hanno la forza, come tanti altri genitori che ho conosciuto in questo periodo, di pensare un po' anche agli altri per evitare che quello che gli è accaduto non si ripeta. Il progetto proseguirà nelle scuole dove gli studenti incontreranno anche i familiari delle vittime della strada e poi l'associazione DOG, operatori di strada, il 1 e 15 aprile di fronte a Porta Fiorentina, metteranno a disposizione un test che simula gli effetti dopo l'assunzione di alcol e droghe. Non credo che siamo di fronte a auto o strade troppo pericolose. Io la penso diversamente da chi pensa e da chi crede che ci sono delle strade che sono le strade da morte. Le strade diventano pericolose nel momento in cui si guida in modo pericoloso.